Mister Doria, come sta andando la partita dei Boomers, questo derby sin ombre? Quanti 5 minuti, quindi è tutto ancora da partita in fase di studio Anche se mi sembra i Padawan abbiano qualcosa in più in questo momento Non manca tanto muro, il muro davanti non fa film Zero qua Zero? No Vediamo se... Da cambiare... No! Ma dici che è per colpa dell'età della tua squadra, dell'età elevata Allora, Mister Leonardo, come stanno andando le sue squadre in questa prima tappa, quel torneo? Ne ho una Ne ho una? La prima partita l'ha persa di 6 punti Però sono super soddisfatto perché loro sono giovanissimi Dai 14 ai 16 anni, quindi averli portati in un momento come giocano anche gli adulti E aver fatto un risultato del genere, sono molto contento Ora riesco alle 3, hanno lasciato la partita Stiamo a vedere E l'esperienza d'arbitraggio? Personalmente... Hai fatto cagare, sì, hai fatto cagare Diciamo che non farò il corso per diventare animo Non sarà la mia aspirazione Questa è un bene per tutto l'eatball, che tu non faccia l'armi Un po' meno... Non lo farò, non lo farò Quindi siete salvi? Grazie, grazie Grazie a voi Allora, Capitano Aquila, com'è? Ritorno al gioco Mi ha visto dei grandi numeri, eh, da parte tua Grandi numeri di Aquila Grazie Grazie Grazie